Stop al gioco della palla, stop a bivacchie, stop a schiamazzi dopo le 21. In piazza Cardinale Casaroli a Castel San Giovanni è arrivata l'annunciata stretta. Dopo gli ennesimi episodi segnalati nei giorni scorsi di disturbo alla quiete pubblica, l'amministrazione comunale ha emesso una nuova ordinanza, ancora più restrittiva rispetto alle precedenti, perché vieta del tutto il gioco del pallone. Se fino a ieri almeno ai più piccoli era consentito tirare calci al pallone, purché sotto la sorveglianza di un adulto, ora è arrivato il divieto per tutti, chi non lo rispetterà si vedrà ritirare il pallone, mentre ai genitori, in caso di minori, verranno rifilate multe da 25 a 500 euro. Il provvedimento, a firma del sindaco Lucia Fontana, vieta anche assembramenti chiassosi, schiamazzi dalle 21 alle 8 del mattino, sono vietati bivacchi, comportamenti e condotte che danneggiano monumenti, edifici e qualsiasi bene pubblico. È vietato consumare pasti, bevande e ogni genere di ristoro e abbandonare i rifiuti se non utilizzando gli appositi contenitori. Anche in questo caso chi verrà sorpreso a sgarrare rischierà multe da 25 a 500 euro, più la denuncia se si ravvisano reati penali, come il danneggiamento. In questi casi saranno sempre i genitori, in caso di minori, a dover risarcire il danno. I controlli verranno effettuati dalla polizia locale e, in orario notturno, dalle forze dell'ordine. L'ordinanza va incontro ai più esigenze, da un lato quella dei residenti e delle attività che si affacciano su Piazza Casaroli, dove ormai non si contano più le segnalazioni di disturbo alla quiete pubblica ad opera di gruppi di giovanissimi. Qualcuno parla anche di pallonate finite nella vicina collegiata, dispetti ai danni dell'oratorio, situazioni che ciclicamente si ripresentano ormai da anni e che hanno indotto ora ad adottare questa nuova stretta nella speranza che la situazione possa finalmente migliorare.